La scuola alti studi IMT conquista nuovi spazi a Lucca. È stato firmato infatti il contratto preliminare per l'acquisto di Palazzo Boccella, ex sede del Museo d'Arte Contemporanea. Il nuovo immobile ospiterà il rettorato e uffici amministrativi e si sommerà all'alloggio studentesco in via Brunaro Paoli che sarà pronto il prossimo anno. L'annuncio è stato dato dal rettore degli IMT all'inaugurazione dell'anno studentesco che si è tenuto oggi 18 novembre. Molte le personalità istituzionali e del mondo universitario che si sono alternate sul palco dell'auditorium di San Francesco. Il presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, il presidente della provincia Luca Menezini, il sindaco di Lucca Mario Pardini, l'assessore regionale Alessandra Nardini e il rettore di IMT Rocco De Nicola. Mi auguro che quell'abbattimento delle barriere e delle divisioni, che come detto prima la scuola IMT cerca di realizzare puntando sull'ibridazione e le collaborazioni del proprio campo di azione, cioè la scienza, la ricerca e la formazione, diventi al più presto il modo normale di pensare il mondo. Mi auguro che non vi siano più ricercatrici afghane o ucraine da accogliere per ragioni di conflitto, ma solo per ragioni di collaborazione. Ma l'attenzione era concentrata sulle lexio magistralis tenute dal direttore generale Musei per il Ministero della Cultura Massimo Asanna. Le piccole città come Lucca, che sono grandi città per punto di vista storico-artistico, saranno ovviamente e sono inserite nel grande programma del PNR che prevede almeno tre assi di finanziamento, uno sull'accessibilità intesa come non solo abbattimento delle barriere architettoniche, che è un po' la quota zero direi da cui partire, ma soprattutto sensoriali e cognitive, quindi ripensare i linguaggi museali e i bellissimi musei di Lucca ovviamente possono raccontare tantissime storie che ancora non raccontano. Delicata la situazione attuale del patrimonio museale italiano, dove il 90% degli oggetti è custodito nei depositi e il 70% degli spazi espositivi o dei depositi non è sottoposto a monitoraggio ambientale.